Ed ora parliamo invece di calcio con il Perugia, Perugia che affronterà domenica l'Arezzo e sono tante le storie che si incrociano in questo derby umbro-toscano, storie che riguardano perugini che giocano con l'Arezzo e aretini che giocano con la maglia del Perugia. Ci riassume queste storie in questo servizio Gigi Alberti. Derby meno 4 tra Arezzo e Perugia c'è anche un gioco di strani intrecci, l'altra faccia della sfida infinita. Basta leggere la lettura delle rose che spiccano varie curiosità. Il primo, perugini che vestono la maglia del cavallino e aretini quella del Perugia. Un esempio, Nicola Beati è un perugino doc, colonna portante del centrocampo amaranto. Non gli è da meno capitano Andrea Bricca, simbolo del cavallino. Tifernate di Cerbara, Bricca vanta più di cento presenze con la maglia dell'Arezzo. Di Foligno è Ambrogioni, ma anche lui non vanta trascorsi con le squadre della sua regione. In casa Granata spicca la presenza di Mirko Barbaglia, aretino d'occa, la sua prima esperienza in Umbria. Domenica tornerà d'avversario per la prima volta. Un altro aretino, sebbene di adozione, è il portiere Benassi, grande rivelazione della tormentata stagione del Grifo. Simone Calori, invece, di San Giustino Valdarno, è arrivato a Perugia nel mercato d'inverno. La pattuglia degli ex vede una bella schiera. Del core da una parte, Cutoro dall'altra, non hanno avuto trascorsi fortunati all'ombra di San Cornelio. In compenso, il pugliese quest'anno ha castigato gli amaranto quando giocava a Foggia. In mezzo staziona Passiglia, che è stato il perno dell'Arezzo di Somma. Tra i volti noti c'è pure Stamilla, trascorsi nella San Giovannese, obiettivo mancato nel mercato di due anni fa. Nella girandola delle curiosità, spazio obbligato anche per gli allenatori. Marco Cari a Perugia non ha avuto la soddisfazione che avrebbe meritato, mentre Giovanni Pagliari vanta un passato fugace con la maglia dell'Arezzo. All'appello poteva starci Maurizio Sarri, che ha guidato il grifo nella partita di andata. E nella lista ci poteva stare anche Ugolotti, che al Perugia ha segnato la rete più importante della sua carriera in amaranto. E a proposito di ultime partite, mancheranno i due match winner. Miglietta gioca, tra l'altro poco, a Taranto, mentre Ercolano adesso è a Treviso. Solo un lampo in questa stagione, proprio nella partita di andata contro l'Arezzo. Grazie.